Ciao, Davide, lui inquina l'aria facendo finta di pulirla, Claudio costruisce forni inquinando l'aria, io salvo la vita alla gente, tu fai abbattere le foreste quindi inquini l'aria anche tu, io salvo la vita alla gente, io sono l'unico che usa i ventilatori per poter pulire l'aria tutti quanti, tu fai girare le pade a tutti, mi do le reali, allora il video di adesso è sul manuale di istruzioni, la manutenzione e quello che fanno i clienti, manutenzione non serve, Aspetti che si rompa qualche cosa, se tu fai i soldi sui guasti, lo so, quando ti si rompe un ventilatore, stai fermo in 2-3 mesi, le manuale dovrebbero essere scritti i tempi di lubrificazione, i tempi di consumo, come fanno l'unutenzione, invece tutti scrivono, ma l'unutenzione la faccio solo io costruttore e nessuno li ascolta, i tempi di lubrificazione dovrebbero essere calcolati, invece si fa il copio incolla per i concorrenti No dai, si calcolano, ci sono delle formule sul manuale del SKF, più facile di così? Dici? Eh sì, in base al cuscinetto hai una formuletta barata Tu li calcoli per i forni? Sono un mio ingegnere che calcola? No, anche io, c'è anche i miei Io diciamo che il calcolo non sono un po' Da ventilatore a ventilatore, se andiamo in un giro in un'officina Se andiamo a fare un giro in un'officina, vedrai che ogni ventilatore ha un intervallo di lubrificazione diverso Sono calcolati e non sparati a caso Voi gli credete? Boh Poi però il cliente fa quel cavolo che gli pare Beh questo è un altro discorso Perché il manuale, la parte del manuale finisce al personale, perché è a carta Poi c'è il libero macchina con i pezzi di ricambio, solo quelli, che finisce alla manutenzione Esatto Però quello che scrivete voi Ma sì, è come quando compri i mobili da l'IKEA che per montarli non lo guardi il manuale Poi dopo è una segna così E' così che succede, perché vedi ad esempio È successo di recente, se hai rotto un ventilatore No Tu o magari No È sempre quello di un altro Sempre quello di un altro No, sono anche i miei Però in questo caso non era mio Ero due anni che diceva il suo cliente, dobbiamo fare il giro di manutenzione, dobbiamo controllare Dopo che si è rotto mi è arrivata la mail, puoi venire a controllare tutti gli altri Ma perché tu hai conflitto di interesse Tu vuoi vendere e lucrare soldi sul povero cliente tramite potenzione Ma no, io ne faccio durare di più Molte volte non bisogna anche vendere ricambi Si vede che si è chiedendo Ma si è alla pena è già anche più bella Vuole vendere ricambi Il cambio ormonale, sono i fumi di fondo di riga che fanno screening Ma diciamo che il problema principale di noi che dimissioniamo è le manutenzioni E quindi i tempi di manutenzione, ma non solo di lubrificazione La lubrificazione è quello più evidente perché si blocca la macchia Ma anche il seraggio dei morsetti, il seraggio dei fili Il controllo delle fotocellule nei nostri formi E tutte le vibrazioni, tutte le sicurezze Il problema è che noi dimissioniamo le macchine per un determinato utilizzo E poi ne viene fatto un altro Tipo che allargano il diaframma, il bruciatore, cose così Che va più veloce Che va più veloce Che va più cicli Per esempio l'ultimo impianto Che carica un altro prodotto al posto che quello che avevi pensato Ma allora non si Cambia la temperatura di lavoro Che non aspiri solo la cosa ne aspiri di più Esattamente Le frequenze di utilizzo magari da due dimensioni per due o tre frequenze di utilizzo al giorno E allora fanno 20-18 20-18 Se tu calcoli un piano per esempio solo di lubrificazione stupido Su utilizzi di due o tre volte al giorno Magari tu calcoli un piano Ogni sei mesi devi fare una lubrifica Però se tu non mi dici che aumenti questo ciclo di lavoro E quindi passi da tre a diciotto Quindi sei volte di più Tanto mi da tanto Se vuole meno Se vuole meno è il tempo di manutenzione Io ti ho comprato il tuo forno con soldi buoni? Sì Quindi devi andare comunque io lo uso Con un manuale Con scritto ogni quanto lo devi fare Ma il manuale non serve Sono una roba per burocrati Sì infatti tu vivi proprio quello A volte il mio manuale viene messo solo per far passare aria O per tamponare i buchi dentro nel quadro Però c'è un del forno Sì Anche quello Lo abbiamo visto anche quando Non metti lì come ferma che ha te Perché Ciao 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 Grazie a tutti.